Albero di Giada. 8 consigli per averlo sano e forte, anche tutto l'anno. L'albero di Giada è una pianta molto amata. Si trova spesso in casa, ma anche in giardini, terrazze e uffici. È una succulenta popolare e ci sono tante storie legate a essa. Per esempio, molte persone la chiamano l'albero dei soldi perché le sue foglie tonde somigliano a monete. È anche vista come una pianta che porta fortuna. E chi può biasimarli? La crassula ovata è davvero speciale, resistente e si adatta bene in molti luoghi. Anche se non sei un esperto di piante, puoi curarla facilmente. Ma, per mantenerla sana e bella tutto l'anno, ci sono alcune cose da sapere. Ecco alcuni consigli. La crassula si trova bene sia fuori che dentro casa. Ma ricorda, le piace la luce, ma non diretta. Quindi, cerca un posto luminoso ma ombreggiato, specialmente d'estate. Per evitare che le foglie si brucino. Una luce costante l'aiuta a crescere forte. Sull'annaffiatura, attenzione, non ama troppa acqua. Come succulenta, preferisce che il terreno si asciughi tra un'irrigazione e l'altra. In estate, annaffia ogni tre giorni e in inverno una volta a settimana. E ogni tanto, pulisci le sue foglie. Usa un panno morbido con un po' d'acqua e sapone di marsiglia. Questo la aiuta a respirare meglio e la protegge da malattie e parassiti. E il cibo? Puoi usare i fondi del caffè come concime. Li puoi mescolare nel terreno. Aiutano la pianta a crescere bene. E se noti dei parassiti, usa un rimedio naturale per proteggerla. Anche potarla è importante. Taglia i rami in eccesso o quelli che crescono in modo strano. Usa sempre forbici pulite. E se la pianta è fuori e fa molto caldo, coprila con un telo. Dopo un paio d'anni, mettila in un vaso più grande. Così le sue radici avranno più spazio. Ecco fatto! Con questi semplici passi, la tua crassula ovata sarà sempre bellissima.